No, Nicola Venucci è uscito larghissimo dalla variante Ascari, incidente pesantissimo per Venucci che è andato a picchiare contro il guardrail, incredibile! Attenzione a questo punto, bandiera rossa, quando mancano 30 secondi, bandiera rossa alla gara e infatti tutte le portazioni con bandiera rossa ordinata immediatamente dal direttore di gara, bandiera rossa e naturalmente si prezza qui la classifica che chiude definitivamente questa gara l'incidente è stato pesantissimo, finisce Nicola Venucci, va sul cordolo, trova nel bagnato la vettura sta a schiantare contro le barriere e l'anteriore praticamente si divide in due Mamma mia, incredibile l'incidente, ho corso a Nicola Venucci, davvero incredibile Il pilota lo vediamo all'interno dell'abitacolo, si sta muovendo ma chiaramente i soccorritori non riescono ad aprire lo sportello, la portiera per farlo cedere Mentre Michele Ramos e Alvaro Parente naturalmente festeggiano questo successo Bacchi Riffing, secondo fondo, l'aperto porto cedere ruggolo Adesso andremo a verificare la solita posizione di Nicola Venucci e poi andremo sul modio per le prevenzioni Grazie